Il Ministero dell'Ambiente ha autorizzato il progetto di Terna per la razionalizzazione della rete elettrica tra Dolo nel Veneziano e Camin nel territorio della provincia di Padova, che consiste nella costruzione di un elettrodotto in cavo interrato a 380 kW della lunghezza di 16,5 km con la contestuale demolizione dei vecchi tralici e di 32 km di cavi aerei. Per la realizzazione la società ha previsto un investimento di 130 milioni di euro. Il nuovo collegamento consentirà di smantellare ben 123 tralici e liberare da infrastrutture elettriche circa 95 ettari di territorio. I comuni coinvolti nel progetto sono Dolo, Camponogara, Straffo, Soe e Vigo Novo in provincia di Venezia, invece Padova e Saunara in provincia di Padova, quest'ultimo interessato soltanto da interventi di rimozione. Collegamento tutto nuovo che, secondo la società, favorirà la gestione in sicurezza degli scambi di energia tra le aree di Venezia e Padova, incrementando anche la sicurezza e la resistenza della rete. Le strutture tradizionali, infatti, sono sempre più frequentemente esposte agli effetti di eventi meteorologici estremi, in particolare nevicate e raffiche di vento. Contemporaneamente consentirà di ridurre le perdite di rete con efficientamento del servizio di trasmissione dell'energia. L'intervento fa parte di una più ampia razionalizzazione della rete di alta tensione nelle aree di Venezia e Padova. È una delle opere di sviluppo della rete elettrica regionale previste dal protocollo d'intesa sottoscritto da Terna in Regione Veneto nel 2019 e frutto di numerosi incontri e sopralluoghi con Regione e comuni interessati per individuare soluzioni condivise e definire il percorso del tracciato. Terna, che in Veneto gestisce oltre 5.100 km di linee elettriche in alta e altissima tensione nell'ambito del piano industriale 2021-2025, denominato Driving Energy, ha previsto investimenti per oltre 370 milioni di euro per lo sviluppo e la resilienza della rete elettrica regionale. Grazie a tutti.